La partita del cuore di Fabrizio Castori si è risolta con una sconfitta per il Cesena che a Carpi ha compromesso la propria prestazione con due reti incassate nei primi 15 minuti di gioco. Facciamo allora il punto nel servizio. Il Cesena stecca completamente l'approccio alla gara di Carpi e finisce col pagare d'azio con una sconfitta che restituisce Bianconeri, l'ultimo posto in solitario. Alcabassi Castori è accolto come un re, Il Cesena invece è salutato con la combinazione Mbakogu, Verna, Nzolà e Jelenic che permette agli emiliani di passare in vantaggio dopo appena due minuti di gioco. Tutti fermi nella difesa bianconera come sulla conclusione alta di Mbakogu o sulla battuta secca di Jelenic con Agliardi a dire di no. Al quattordicesimo però è ancora Mbakogu a seminare il terrore sulla sinistra. Saltato origione, assist per Nzolà che cicca la battuta. Non così Jelenic che sigla la doppietta con un gol in fotocopia rispetto al primo. La reazione del Cesena si sostanzia con la battuta di Conè su cui è in ritardo Iallo con un tiro cross del Gambiano che tocca l'incrocio dei pali al trentesimo e con la verticalizzazione per Dalmonte al cinquantatreesimo ma Colombi dice di no. Una ripresa in cui il Carpi avrebbe la chance di chiudere i conti con il contropiede di Carletti sprecone al punto giusto. Il Cesena invece va vicino al gol solo con un colpo di testa out di Moncini su cross di vita alla mezz'ora. Si arriva così al novantaduesimo quando l'asse vita-Moncini genera anche l'autorete di Brosco per il 2-1. Troppo tardi però per un Cesena che non avrà più opportunità di pareggio e che se ne torna a casa da Carpi a mani vuote. Ha parlato di premio alla carriera Fabrizio Castori al termine del match. Il tecnico marchigiano si è soffermato anche sugli errori commessi dai suoi giocatori che sono costati al Cesena la sconfitta al Cavassi. Vediamo. 2-1 maturato a pochi minuti dalla fine quanto è il ramarico per aver aperto la gara appunto solo a pochi istanti dal termine. No, il ramarico c'è perché abbiamo commesso degli errori in apertura di gara in cui abbiamo perso un paio di contrasti siamo stati morti nel perdere i contrasti e abbiamo lasciato calciare Jelenic libero e siamo mancati nel recupero di un inserimento. Abbiamo commesso degli errori noi. Poi dopo siamo stati bravi a giocare la partita fino alla fine siamo cresciuti fisicamente questi sono dati importanti siamo riusciti a creare diverse opportunità abbiamo accorciato le istanze secondo me alla fine si potrebbe meritare il pareggio. Nel pre-gara e al termine della gara una bellissima comunque accoglienza del pubblico di Carpi. Ho detto ai tuoi colleghi della stampa che io considero questa accoglienza quella di Cesena Sabato un premio alla carriera. Secondo me è stato l'approccio sbagliato nel primo tempo come ci ha detto anche il mister anche perché poi nel secondo tempo abbiamo creato un po' di occasioni per pareggiare la partita poi si parlava di rigori di rigori adesso io non l'ho visto però l'atteggiamento deve essere sicuramente quello del secondo tempo ci siamo un po' stratturati tutti e due qui magari poteva essere anche un fallo mio però anche il rigore però meno male poi siamo andati a terra ci ha scontrato e ho visto la palla era entrata meglio così. In Serie C intanto prosegue il momento nero di Ravenna e Sant'Arcangelo usciti con le ossa rotte dalle sfida con Feralpi Salò e Suttirol vediamo Si fa sempre più complicata la rincorsa alla salvezza delle romagnole in Serie C cade il Ravenna ancora una volta beffato nel finale di una gara quella con il Feralpi Salò che i giallorossi stavano traghettando verso un pari a reti bianche che non avrebbe fatto una piega Bizantini vicino al gol con Cenci ma la battuta del 23 è troppo centrale Feralpi che spreca con Ranellucci prima della migliore occasione in Ravennate con Gerardi stoppato sulla riga di porta dopo l'errore in uscita di Caglioni gol sbagliato gol subito con l'infilata Lombarda e l'assist di Luque per l'appoggio in rete del capo cannoniere Simone Guerra una sconfitta beffarda comunque ben differente dall'ennesima imbarcata patita da Sant'Arcangelo la gara di Bolzano contro il Sud Tirol si trasforma ben presto in una gara di tiro al piccione con il rigore al del dodicesimo fallo di Toninelli su Ghiasi con trasformazione di Berardocco ad inaugurare il pomeriggio nero dei gialloblu Costantino raddoppia comodo comodo lo stesso centravanti triplica le marcature mentre nella ripresa arrivano altri due penalty di ingenuità pura mani di Mondioli su Ghiasi trasforma Frascatore per il 4 a 0 altre ingenuità di Sirignano su Oneto e Ghiasi trasforma spiazzando Bastianoni fanno sette sconfitte su nove partite disputate per una squadra quella di Angelini sempre più alla deriva arrivano invece ottime notizie dalla MotoGP dove ancora una volta Andrea Dovizioso ha lasciato tutti di stucco il campione della Ducati si è reso protagonista di una straordinaria rimonta per andare a vincere il Gran Premio di Giappone e riaprire la corsa per il mondiale appunto di MotoGP il duello finale con Marquez è stato strepitoso il Forlivese se lo è aggiudicato rimanendo sempre lucido e trovando lo sprint nel finale per prendersi la quinta vittoria stagionale che lo riporta a 11 lunghezze dal leader della classifica generale ma occupiamoci anche di basket in A2 cadono in trasferta Imola e Ravenna seppur a testa alta nei match di Udine e Trieste vince in volata l'Unieuro Forlì protagonista del successo casalingo contro Mantova per 75 a 71 sentiamo allora Coach Valli siamo molto felici perché quando Forlì vince siamo tutti molto felici che non è così scontato che vinciamo aver fatto due su due in casa sono molto molto contento sono contento per la vittoria sono contento perché ho recuperato Naimi Falluca non era così scontato e devo ringraziare veramente tutto lo staff medico da tutta la famiglia Borra e il dottor Lughi perché ci hanno rimesso in piedi due ragazzi e non era così semplice ancora ovviamente non al 100% della forma ma non dipende da loro dipenderà invece dai giocatori a rimettersi in forma sono contento perché abbiamo fatto un primo tempo da 25 punti un altro da 50 è ovvio che non siamo né quelli da 25 né quelli da 50 noi dobbiamo mantenere questa umiltà di fondo perché noi siamo poca cosa se pensiamo di essere bravi se invece pensiamo tutti quanti non dico tanto la squadra tutti quanti noi se invece pensiamo di essere ancora quella Forlì che si deve giustamente trovare quei punti per salvarsi allora secondo me siamo una squadra che cresceremo e che ci divertiremo si celebra il trionfo di Andrea Dovizioso Amoteghi sulla Corriere di Romagna un Dovizioso che non vuole smettere di sognare Amoteghi il campione di Forlì centra la quinta vittoria stagionale dopo un duello entusiasmante contro Marquez ora lo spagnolo è a soli 11 punti per quanto riguarda invece il resto del Carlino vediamo come si parli di nuovo Cinema Bologna Palassio dirige Poli e Don Sa sgretolano la resistenza della Spal nel derby finisce 2-1 al Dallara terza vittoria di fila adesso i rosso-blu sono al sesto posto Donadoni bene il risultato ma impariamo a chiudere le gare torniamo però a occuparci della situazione del Cesena grazie all'opinione di Luciano Poggia bisogna prendere in considerazione la prima parte o la seconda parte della partita della Cesena giocata a Carpi beh io direi entrambe ma comunque in ogni caso non è che la seconda parte che ha visto il Cesena giocare un po' di più la partita viverla un po' meglio rispetto alla prima parte non dà garanzie non dà garanzie perché perché là davanti non c'è nessuno che la mette dentro Caccia è fuori uno dirà vabbè avevano preso Caccia sì però Caccia fino a Natale probabilmente non potrà scendere in campo e da qui a Natale che cosa si fa? allora bisogna sicuramente lavorare sulla prima parte della gara giocata contro i Carpi dove una difesa davvero inconsistente ha regalato in pratica le due reti ai padroni di casa mancano gli esterni difensivi se bisogna giocare come dice Castori mirando alla porta ma soprattutto con concretezza e difendendosi bene ci vogliono due esterni difensivi che siano due difensori e il rientro di Perticone darà sufficienti garanzie ma per il momento comunque la situazione non è sicuramente da pensare in positivo ed è tutto per quanto riguarda questa edizione di TR24 Sport potete comunque rivedere i servizi andati in onda e avere maggiori informazioni sportive cliccando sulla portale tr24.it grazie per essere stati qui con noi arrivederci grazie